Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le nostre notizie. Diamo subito un sguardo ai titoli di oggi. Aprilia, arrestata giovane donna in esecuzione di ordine di carcerazione. I carabinieri del Norma notificano il provvedimento ad una giovane già detenuta presso il carcere di Roma Rebibbia. Norma, arrestato un uomo in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Pontinia, coltiva piante di Mario Iana, arrestato un uomo del luogo. Latina, PEF di Latina Ambiente, i gruppi di maggioranza dichiarano le accuse dell'opposizione smentite dai fatti. Castelforte e Cardillo comunica che sono state convocate le commissioni inerenti alle iniziative culturali e gli alloggi popolari. Santi Cosme e Damiano, il sindaco di Siena, conferma che per il trasporto dei disabili iscritti presso l'ITIS non vi è nessun cambiamento. Gaeta, protesta degli avvocati contro la chiusura del tribunale. Formia, auditorium di via Olivastro Spaventola, inaugurazione nel segno di Vittorio Foa. Formia, il comune, si costituisce parte civile nei processi per mafia e violenza sulle donne. Cori, ultimo appuntamento con le forme della scrittura, festival di letteratura, teatro e musica. Per il calcio, al via la stagione del Formia calcio. Per il basket, per il fondi buona la seconda. A Pellezzano, in provincia di Salerno, corsi di mini basket per bambini dai 5 agli 11 anni. Palla a mano, Geo Tergaeta, la prima gara di campionato sarà disputata presso il Palasport di Pontini. E cominciamo, come è nostra abitudine, con i fatti di cronaca. Parliamo per prima cosa di Aprilia, dove alle ore 17, nella giornata di ieri, presso la casa circondariale di Re Bibbia. I carabinieri del Norma del reparto territoriale di Aprilia hanno eseguito, a carico di una giovane donna di 18 anni di nazionalità romena, l'ordine per la carcerazione emesso dal GIP del Tribunale di Latina, che ha concordato le risultanze investigative avanzate dai carabinieri operanti per il reato di furto aggravato. A Norma, invece, vi è stato l'arresto da parte dei carabinieri del locale comando stazione di un 46enne del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Latina, dovendo espiare il regime di detenzione domiciliare, la pena residua di anni 1 e giorni 20 di reclusione per il reato di recettazione commesso a Latina nel 2004. A Pontinia, nella mattinata di oggi, nel lago del comune di Pontini, i carabinieri della stazione di Priverno, a conclusione di specifica attività investigativa, hanno arrestato nella fragranza del reato di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione abusiva di sostanza stupefacente un 45enne di Pontini. Il predetto, a seguito di miliardi servizi di osservazione, controllo e anche pedinamento, è stato sorpreso nell'atto di coltivare 10 piante di canapa indiana dell'altezza di un metro e 60 circa all'interno di un orto recintato adiacente alla propria abitazione. Le piante, che hanno un peso complessivo di chilogrammi 6,5, sono state estirpate e sottoposte a sequestro. L'arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e in attesa del reto direttissimo, scusatemi, previsto per la mattinata di lunedì 16 settembre. Cambiamo argomento, parliamo adesso di politica e cominciamo dal capoluogo di Regione. Infatti, a Latina è polemica sul PEF, il piano economico finanziario della Latina Ambiente. La risposta del gruppo di maggioranza, questo si legge nel comunicato stampa, in merito alla discussione della nuova PEF, piano economico finanziario della Latina Ambiente, relativo alla quantificazione dei costi del servizio raccolta rifiuti, riteniamo che le questioni sollevate dall'opposizione ancora oggi nella seduta congiunta delle commissioni consigliari Ambiente e Bilancio siano sterili, ripetitive e, come provato dopo due anni di fatti concreti, inconsistenti. Ad ogni discussione sul PEF l'opposizione non perde occasione, salvo poi essere clamorosamente smentita dai fatti di annunciare stangate per i cittadini, sperperi, sbandierando un servizio di raccolta allo sbando e un costo dello stesso che lieviterebbe in maniera esorbitante addirittura ai primi posti in Italia. Ebbene tutto questo è puntualmente smentito dai fatti, dal 2010 ad oggi le bollette dei rifiuti non sono aumentate, anzi dai riscontri reali emerge che per alcune categorie, in particolare quelle domestiche, sono diminuite, basta confrontare gli importi delle bollette dal 2009 per rendersene conto, bollette diminuite di decine di euro, anche 70 euro e questo è un fatto oggettivo. L'opposizione invece continua a dare i numeri, si legge nel comunicato, dicendo l'esatto contrario di ciò che mostrano palesemente i fatti. Riguardo al nuovo PEF fisiologicamente subirà un aumento, ma l'importo previsto rispetto al costo dei servizi è ancora inferiore a quello del 2010, nonostante l'introduzione dei servizi aggiuntivi. Di conseguenza anche le bollette saranno sicuramente inferiori a quelle del 2010 e forse anche di quelle degli anni successivi, poiché il numero delle utenze accertate è aumentato grazie al lavoro fatto dagli uffici comunali con la ripresa in carico della bollettazione. Circa la questione legata al costo e l'esigenza di avvalersi dei cinque operatori ambientali formati e ricollocati, l'opposizione dimentica che questa è una decisione presa in linea con i punti fermi voluti dalla maggioranza fin dall'insediamento di questa amministrazione, e cioè mantenimento dei livelli occupazionali della latina ambiente, cercando al contempo di migliorare il servizio di raccolta rifiuti senza gravi per i cittadini. Riguardo al coinvolgimento delle cooperative sociali nella gestione del servizio di pulizia attorno ai cassonetti, cioè di quelle cooperative che per legge devono avere almeno il 20% di personale appartenente alle categorie speciali e protette, questa attività rientra nel programma sindacale voluto dall'intera maggioranza, è evidente che si tratta di un elemento di distinzione rispetto all'opposizione che caratterizza il nostro programma e il nostro lavoro. Circa la contestazione relativa al ritardo della formulazione del PEF, evidenziamo che ciò è avvenuto perché elaborare il PEF dopo l'approvazione del bilancio della latina ambiente avvenuto a fine luglio ha consentito di avvantaggiarci circa alcune poste e quindi arrivare al contenimento del PEF. Tutto questo ci porta a ribadire che di fronte ai numerosi e evidenti fatti oggettivi suffragati dalle bollette arrivate ai cittadini, le contestazioni dell'opposizione trovano risposta nei fatti. Rimaniamo a parlarvi di politica, ci spostiamo in ambito più locale, in questo caso si parla di Castelforte, infatti in questi giorni sono state convocate, questa è la dichiarazione del comunicato che ci giunge dal gruppo consigliare del PD, a nome Giancarlo Cardillo e Paolo Ciorra, dicevo sono state convocate su nostra richiesta le due commissioni competenti sulle problematiche attenenti alle concessioni di autorizzazioni per iniziative culturali e sulla gestione dell'assegnazione degli alloggi popolari. Dobbiamo dire che mentre sulle iniziative culturali che organizzano le associazioni del nostro territorio, sulle nostre proposte che vanno tutte nella direzione di programmare sgravi per chi le organizza ormai diventati troppo onerosi, c'è stata una tiepida apertura soprattutto da parte del Presidente della Commissione sulla gestione della concessione degli alloggi popolari, i nostri dubbi permangono quasi tutti. Pertanto riteniamo rinnovare al Sindaco l'invito di convocare al più presto la Commissione alla presenza anche dei funzionari dell'Ater. Questa riunione si rende più che mai necessaria per sgombrare il campo da qualsiasi eventuale dubbio sulla legittimità e sulla trasparenza degli atti, anche alla luce degli eventuali ricorsi o denunce di cui il Comune potrebbe incorrere. È un atto politicamente e moralmente, finisce il comunicato, importante soprattutto nei confronti di tutti quei cittadini che si trovano a vivere con un forte disagio economico e sociale verso i quali l'amministrazione non può e non deve restare sorda e insensibile. E adesso parliamo di Santi Cosme e Damiano dove ci giunge un comunicato stampa dall'addetto stampa dell'amministrazione comunale e così inizia affermazioni strumentali e prive di fondamento quelle apparse sulla stampa relative al trasporto scolastico per i disabili iscritti all'itis. A dichiararlo è il sindaco Vincenzo di Siena che ha confermato che come il trasporto per i disabili che sono iscritti presso l'itis è lo stesso da diversi anni e anche quest'anno, nonostante le notevole difficoltà finanziarie che ci sono, per il momento non ha subito alcuna modifica. Tranne a un disguito tecnico verificatosi il primo giorno di scuola, cioè lunedì scorso, per un guasto alla pedana di sollevamento delle carrozzelle del mezzo di trasporto, peraltro prontamente sistemata. Vorrei ricordare, ha proseguito il primo cittadino sancosmese, che l'itis è un istituto superiore e pertanto rientra nelle competenze della provincia e non del comune. La provincia trasferisce un contributo per il trasporto mentre il resto è a carico dei cittadini di Santi Cosme e Damiano attraverso il bilancio comunale che pertanto per garantire questo servizio siamo costretti a sacrificare altri servizi che riguardano il resto della cittadinanza e lo facciamo con piacere pur di venire incontro al disagio di queste famiglie. Tuttavia questa voglia di protagonismo di apparire sulla stampa senza neanche tentare un incontro con le autorità interessate, senza neanche fornire un cenno di protesta diretto, sembra destare molti sospetti di strumentalizzazione. Io credo che la prima cosa, qualora si fosse stato un problema, sarebbe dovuta essere quella di venire al comune e cercare di parlare con il sindaco o con l'assessore preposto, come del resto questi genitori hanno fatto moltissime volte trovando sempre le porte aperte. Il fatto di voler andare sulla stampa senza neanche tentare di parlarne con qualcuno destano devoli sospetti di strumentalizzazione che poco sembrano avere a che vedere con i disaboli e con la volontà di risolverne i problemi. Sul punto è intervenuto anche l'assessore ai servizi sociali Vincenzo Petruccelli che nel manifestare la sorpresa per il comportamento di questi genitori ricorda che negli anni scorsi abbiamo dato disponibilità a trasporti che nulla avevano a che vedere anche con le lezioni scolastiche proprio per cercare di venire il disagio di queste famiglie. Sembra strano che ora non abbiano trovato di meglio che andare sul giornale per esporre il proprio problema, vuol dire che per il futuro valuteremo anche se sia il caso di proseguire con questo servizio che come detto dal sindaco viene garantito a discapito di altri servizi che riguardano la maggior parte della popolazione. Comunque mercoledì riceverò questi genitori firmatari di un documento del quale peraltro non si ha nessuna traccia se non la citazione sulla stampa per affrontare il problema e trovare come abbiamo sempre cercato di fare e nessuno meglio di queste tre famiglie lo sa di risolvere il problema nell'interesse esclusivo di questi ragazzi che si vedono inconsapevolmente coinvolti in polemiche che poco li riguardano. Cambiamo argomento di una polemica però si tratta e parliamo di una protesta, la protesta degli avvocati contro la chiusura del Tribunale di Caeta, infatti continua per evitare la chiusura del Tribunale e da mercoledì rimane in assemblea permanente, oggi venerdì è stato deciso di non fare entrare negli addetti al Tribunale di tenere i cancelli chiusi per evitare che portassero via gli atti esistenti dalla sede di Caeta a quella di Cassino, solo dopo le assicurazioni della dottoressa Battaglia si è deciso di fare entrare tutti, l'assemblea rimane permanente per tutto il fine settimana, poi si deciderà su un eventuale blocco della flacca. Vediamo in proposito il servizio di Nino Martucci. Guarda, non la chiamiamo una lotta questa, come dire, una occupazione pacifica per avere questo Tribunale qui nella nostra zona, ma stamattina insomma le cose si stanno mettendo un po' male. Si stanno mettendo male per l'ottusaggine di funzionari del Tribunale di Rafina, l'ordine di usare la violenza contro di noi che stiamo pacificamente dimostrando parte da un dirigente del Tribunale, non parte dal Presidente del Tribunale che è un'autorità, una delle prime autorità della provincia, non parte dal Prefetto, non parte dalla Procura della Repubblica, parte da un funzionario che ritiene di dover usare la violenza per recuperare 10 fascicoli di cui non sa neanche cosa farsi, perché questi 10 fascicoli, le cause legate a questi 10 fascicoli non potranno essere trattate, perché a Terracina non ci sono i giudici, perché a Latina non ci sono i giudici, perché a Terracina non ci sono gli spazi, perché a Latina non ci sono le stanze dove ospitare né magistrati e né i 10.000 fascicoli. che sono conservati in questo Tribunale. Noi non saremmo stati qui probabilmente a fare tutte queste proteste se avessero, ugualmente facendo scempio di quelli che erano i parametri che erano stati prestabiliti e poi dispoticamente disattesi, se avessero detto che le sezioni distaccate sono tutte eliminate, ognuno torna dal suo Tribunale di origine. Gaeta ha una pendenza superiore a quella di Cassino, Cassino ci ha fagocitato e contro Cassino che noi dobbiamo combattere. Il fatto di voler cercare i panicelli caldi per andare a cercare una mediazione che cosa ci ha portato nella nostra perfetta buona fede a credere alle promesse di politici che ci hanno ignominiosamente tradito promettendoci delle cose che poi non sono state fatte e da ultimo praticamente sono state disattese le promesse quantomeno di una proroga contro due pareri parlamentari. Il Tribunale in generale abbia un pochino di buonsenso nel capire che forse oggi è il caso di recedere. Bonariamente tutti, perché io credo che tutti noi siamo qui in maniera pacifica, non siamo qui per fare violenza a qualcuno, però forse è il caso che oggi le cose rimangano così. Tanto oggi è venerdì, non cambia nulla se questo dovesse avvenire con qualche giorno di ritardo che permette a tutti noi di ragionare, di trovare un'iniziativa, una strategia unica e magari anche ci permetta a tutti di muoverci nelle stanze giuste. Sono sinceramente un po' sorpreso che si voglia arrivare ad azioni così forti per una questione che in primo luogo interessa il nostro territorio, i nostri comuni, i nostri cittadini e che non ha avuto fino a questo momento, diciamocelo con grande chiarezza, nessuna discussione che coinvolgesse, oltre che gli addetti ai lavori, anche altri soggetti istituzionali. Fare per esempio una riforma del genere, senza coinvolgere i sindaci del territorio che in un qualche modo rappresentano. Ci chiamano solo quando ci sono problemi da affrontare, da risolvere. Le questioni sociali più acute ovviamente sono a carico dei sindaci, quando c'è in una città un problema te la devi sempre vedere te. Quando poi si decide di smantellare un impianto importante come quello per esempio dell'organizzazione del sistema giudiziario, noi non esistiamo. le cose si fanno direttamente a Roma, neanche un'audizione, neanche una richiesta di un parere scritto. Ce le chiedono sul dimensionamento scolastico. Perché non ce le possono chiedere sulla riorganizzazione della giustizia? Siamo arrabbiati, siamo arrabbiati e non ce la facciamo più e questa ultima provocazione ha proprio superato ogni limite. Mi dispiace che operatori con i quali noi collaboriamo tutti i giorni debbano assumere decisioni di questo tipo. Veramente sono molto adorato. Comunque poiché noi continuiamo a stare in Asselvea, noi abbiamo un documento che ieri sera abbiamo elaborato. Ed è una richiesta formale ai sindaci del territorio che coerentemente alle dichiarazioni non solo fatte oggi ma fatte già nel passato, in tutti questi periodi di lotta, quindi coerentemente a queste dichiarazioni possano convocare un consiglio comunale congiunto e permanente nella sede di questo tribunale. Questi sono delinquenti, sono praticamente gli andesigiani di Hitler, questi hanno sterminato il popolo a lungo, hanno distrutto le cinque città della pianura di Carigliano, la nostra civiltà, datava 80.000 anni prima di Cristo e la civiltà italica era identificata da Nesuvio, però come un figlio ci c'era. Io voglio dire solo questo a voi, dopo questa distruzione, nel 1751 Traetto aveva il suo statuto ed eravamo vice reame perché la capitale era a Madrid e bene, a Vintoro c'era il Bariulo e il Bariivo che decideva le controversie civili e penali, chi era delinquente veniva legato al palo davanti alla chiesa con il sole e con la pioggia, ma allora restituireci il Bariulo del 1751. Sento che ci vuole tutto che dice le armi, è vero o no? Benito, 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 state calmi, state calmi perché, no, chiedo scusa, abbiamo concordato che entrano soltanto la signora Saltelli e l'autista per parlare con noi e basta, ma non nel tribunale, non nel tribunale, solo nel piazzale, solo nel piazzale, solo nel piazzale. Gli organi qui presenti, soprattutto la dottoressa De Bellis, il vicequestore, che ci ha dato la sua parola che comunque i fascicoli non usciranno dal tribunale e mi sembra questa è una cosa positiva. Io ho aggiunto, non per mancanza di fiducia, ma per avere la certezza di chi ha la responsabilità dei fascicoli, di avere anche l'impegno della dottoressa Saltelli che è lo Stato e la dirigente delle cancellerie. Avuto questo impegno, noi apriamo i cancelli per far rientrare gli impiegati per fare quel poco di lavoro che ancora gli rimane da fare, fermo restando il presidio. Questo credo che sia un atto dovuto per quella civiltà che ci siamo imposto e che abbiamo proclamato fino a questo momento, che se da una parte ci toglie e toglie tutti quanti dall'imbarazzo di un'azione di forza che non avrebbe portato a nulla, però ci dà la possibilità di poter continuare a lottare in maniera civile e a presidiare il tribunale. Il presidente del tribunale ha dato la disponibilità ad incontrarsi il presidente di Latina, che da domani comunque non è più il nostro presidente, ma abbiamo la felicità di poterlo incontrare, ha dato la sua disponibilità e con lui eventualmente vedremo di concordare tutte le altre modalità che possano consentirci di continuare a sperare che queste quattro belle mura possano continuare a sopravvivere. Allora, non si prende e non si porta nulla. Torniamo in studio per parlarvi della vicina formia e in questo caso parliamo di un fatto culturale l'auditorium di via Olivastro Spaventola celebra la sua inaugurazione nel segno di Vittorio Foa. Il 20 ottobre sarà inaugurato l'auditorium di via Olivastro Spaventola e sarà intitolato alla memoria del senatore Vittorio Foa. Il punto è stato iscritto all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale perché il sindaco ha voluto che fosse il consiglio a deliberare l'intitolazione. Il 20 ottobre, quinto anniversario della morte, sarà l'occasione per ricordare questa straordinaria figura di politica intellettuale che ha dato lustro alla nostra città scegliendola per un ventennio come sua prediletta residenza e in ultimo come luogo di sepoltura. Vittorio Foa, cittadino onorario di Formia, ha onorato l'Italia prima attraverso la lotta antifascista che ha pagato duramente con dieci anni di carcere e successivamente come padre costituente parlamentare per cinque legislature e dirigente sindacale della CGL per tantissimi anni. Il sindacato, il lavoro, il rapporto con le persone sono state la sua grande passione, ha scritto numerosi libri e ha aperto dibattiti culturali e sociali di grande rilevanza. Torinese di origine scelse Formia come città di adozione, qui sposò la sua compagna Sesa Tato nel 2005 presso la sala sicurezza del comune. Formia vuole rendere omaggio alla sua figura, prevedendo insieme all'intitolazione della struttura anche un convegno alla presenza di intellettuali artisti, tra i quali Vittorio Sermonti e Carlo Ginzburg, che rappresentano due eccellenze assolute. L'idea su cui l'amministrazione lavora è che questa iniziativa parta per gli anni successivi un festival che affronti a partire dal Novecento i temi del futuro ai quali FOA era particolarmente sensibile. Saranno invitati storici, sociologi, filosofi, economisti, si terranno manifestazioni concertistiche, mostre e tanti altri eventi culturali. Al centro del festival un premio internazionale diviso in più sezioni assegnato da una commissione di esperti di livello nazionale che saranno ufficialmente presentati nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'auditorio. Vittorio ha dato lustro al nome di Formia, commenta il sindaco Sandro Bartolomeo, e noi vogliamo restituirli almeno in parte il segno della nostra riconoscenza. Il festival non sarà un evento celebrativo, a lui non sarebbe piaciuto, avrà un contenuto politico, culturale e sociale perché i giovani tornino a interessarsi di storia e conseguentemente anche di politica perché attraverso un approfondimento sul secolo scorso affrontino al meglio le sfide del futuro. Rimaniamo a Formia per parlare di un altro argomento, il fatto che il Comune si costituirà parte civile in tutti i processi per mafia e violenza sulle donne che avranno come parte resa i cittadini o il territorio di Formia. Lo prevede che una delibera votata venerdì dalla Giunta Comunale, contestualmente l'esecutivo cittadino, ha dato mandato all'Avvocatura di inviare una nota alle direzioni distrettuali antimafia perché comunicano all'amministrazione di Formia e i processi di propria competenza che coinvolgono la città. Il primo procedimento penale cui il Comune prenderà parte è fissato per il 12 ottobre al Tribunale di Napoli e riguarda il clan Mallardo di Giuliano. Non solo mafia, la Costituzione di parte civile riguarderà anche i reati commessi contro le donne, parliamo dello stalking, dei maltrattamenti in famiglia, delle lesioni personali eccetera. Teniamo fede a quanto promesso in campagna elettorale, commenta il sindaco Sandro Bartolomeo, vogliamo imprimere una svolta culturale alla città perché le mafie si combattono anche su questo terreno. Dei processi si occuperà l'Avvocatura comunale, non daremo incarichi esterni, gli fa eco il delegato della sicurezza Patrizia Menanno. Con questo provvedimento intendiamo continuare sulla strada intrapresa con le ultime iniziative perché i valori della legalità sono per noi un preciso indirizzo politico. Costituirsi parte civile conclude un segnale concreto che diamo all'intera città perché si dica no alle mafie senza ambiguità né paure. Passiamo a Cori per parlarvi dell'ultimo appuntamento con le forme della scrittura, festival di letteratura, teatro e musica organizzato appunto nella città dallo staff dell'assessorato alla cultura con la collaborazione della provincia di Latina e della regione Lazio per sensibilizzare al tema della legalità attraverso le diverse espressioni della scrittura. Protagonista della terza giornata sarà l'associazione di cittadini contro le mafie e la corruzione. Volontari, giornalisti, giuristi e cittadini impegnati da anni sul fronte dell'informazione e dell'educazione, soprattutto giovanile alla legalità e la giustizia sociale collaborando con istituzioni, gruppi e anche movimenti e proponendo soluzioni per rendere più incisiva la lotta alle mafie e alla corruzione e favorire maggiori livelli di giustizia e di partecipazione alla gestione della cosa pubblica. Domenica 15 settembre alle 17.30 presso la sala conferenze del museo della città e del territorio la proiezione anteprima assoluta del documentario Il giorno prima, prodotto e realizzato da Antonio Turri e Maria Sole Galeazzi dell'associazione Cittadini contro le mafie e la corruzione. Il cortometraggio narrà la storia di un imprenditore agricolo siciliano, Rosario Puglia, che nel paesino di lingua glossa alle pendici dell'Ettera in provincia di Catania, tenta di salvare la sua tenuta agricola dove si produce un ottimo vino dall'assalto appunto di Cosa Nostra. Saro si è rivolto all'associazione per esistere e non sentirsi solo contro lo strapotere della mafia e contro l'indifferenza dallo Stato e di molti suoi concittadini. A seguire l'incontro dibattito l'antimafia del giorno prima perché stare vicino alle vittime con Antonio Turri, presidente dell'associazione, alla presenza dei due testimoni di giustizia. L'antimafia si sviluppa in Italia anche per ricordare le vittime innocenti delle mafie, coloro i quali sono stati uccisi per aver contrastato gli interessi dei clan, hanno diritto ad essere ricordati. Ma questo, seppur doveroso, non basta perché tutte le vittime delle mafie, prima di essere state colpite, sono state lasciate sole da quei pezzi di Stato che non hanno saputo proteggerle anche dalla società civile. L'antimafia sociale spetta ai cittadini affinché il sacrificio di chi ha lottato contro le mafie non si è stato vano e deve sapere star vicino alle persone che si impongono contro questa forma di violenza prima che avvenga, che siano colpite. Cambiamo argomento, parliamo di sport, in questo caso cominciamo dal calcio, al via la stagione del formia calcio e infatti nella mattinata di domani i biancazzurri di Gennaro Scarlato inizieranno la loro avventura nel campionato di eccellenza, il neopresidente Sergio Scipione con l'appoggio del dirigente Vittorio Schettino, del consulente di mercato Daniele Acampa e degli altri collaboratori hanno messo in piedi l'organico del quale se ne dà conto in una lista che adesso vi leggiamo, i portieri sono Ameli Gianmarco del 95, Fiorenza Roberto del 83, Franco Andrea del 96, Difensori Allegretta Pasquale del 93, Armenio Salvatore, Criscuolo Giovanni del 90, Demeo Giovanni del 95, Diem Antone del 89, Giglio Gennaro del 96, Scipione Andrea del 91, Scipione Cristian del 95, Schuoc Cristian del 90, questi ultimi tre della lista dei difensori confermati dall'altro anno, Carriello Alfredo, 79, proveniente dal Pomigliano, Cavaliere Francesco del 94, da Landria, De Santis Agostino, confermato Leccese Samuele, proveniente dal Gaeta del 94, Magrelli Gianmarco del 94, Parente Raffaele del 95, Petronzio Jonathan, confermato del 94, Scarpato Giovanni del 89 e Volpe Stefano del 91, gli attaccanti Marinello Mario del 82, Ottobre Eugenio del 95, che proviene dall'Aprilia, Russo Raffaele del 89, proveniente dalla Frattese, Spilabotte Fortunato del 90, anche lui dalla Frattese, e Tartaglia Virgilio del 96, proveniente dalla città di Minturno Marina. E parliamo di basket per il Fondi Buona la Seconda, infatti l'amichevole della squadra fondana ha fatto contro il basket Terracina con pagine che milita in C regionale ha visto una partita mai in discussione per la truppa di coach di Fazio, impressioni positive sono arrivati dalla gara, buone ripristazioni di Pietro Santo e Porfido in particolare, migliora ogni giorno il giovane lungo Gattesco, belle risposte anche dai molti giovani di Rocco e Refini su tutti, nonostante i carichi di lavoro pesanti, ancora da assorbire, c'è stato comunque un miglioramento significativo del lato atletico rispetto alla scorsa amichevole contro i ragazzi dell'Under 19. della SMG, qualcosa da rivedere sul lato tattico come normale che sia a questo punto della stagione, ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà sabato e domenica con il quadrangolare di Agropoli con la squadra di casa Scafati e Maddaloni, quindi il punteggio è stato Oasi di Cufrafondi, basket Terracina 71 a 50, con parziali 18-15, 35-22, 54-33. Passiamo invece adesso a parlarvi di una notizia sempre di basket che riguarda l'amministrazione comunale di Pellezzano, in provincia di Salerno, che rende noto che nell'ambito delle attività dei servizi sociali, in collaborazione con l'ASD Salernitana Basket 2004, saranno organizzati corsi di mini basket con istruttori qualificati. Potranno partecipare i minori, maschi e femmine, con età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Le lezioni siederanno presso il palazzetto comunale di Capriglia per favorire la più ampia partecipazione. Sono previste agevolazioni anche per le famiglie che presentano un reddito ISEE da 0 a 5.999 euro. I primi 20 bambini iscritti pagheranno solo l'iscrizione necessaria per l'assicurazione e per l'acquisto del kit sportivo. Le iscrizioni si potranno fare presso l'ufficio relazioni con il pubblico del comune di Pellezzano da lunedì 16 a giovedì 26 settembre 2013, tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e lunedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 16 alle 18.30. Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti documenti, il modello ISEE relativo al 2012, la certificazione di un pediatra di base attestante lo stato di salute del bambino, la fotocopia del libretto pediatrico regionale e un certificato di residenza. Parliamo di palla a mano e quindi non si può far meno che parlare della Geo Tergaeta. Il Geo Tergaeta Sporting Club infatti comunica che a causa della temporanea inagibilità del pala a mendola di formi alla prima gara di campionato della Geo Tergaeta che lo ricordiamo è sabato 21 settembre contro Junior Fasano sarà disputata presso il Palasport di Pontinia con orario di inizio fissato alle 18.00. Se l'inagibilità dovesse protrarsi la Geo Tergaeta disputerà a Pontinia anche la seconda gara interna in programma il 5 ottobre contro la Lazio. Inoltre al ritorno al pala a mendola l'orario di inizio delle gare della Geo Tergaeta sarà posticipato alle 19.00 a differenza delle 18.00 come precedentemente comunicato. Le uniche ulteriori variazioni di orario riguardano le gare del 21 dicembre del 14 gennaio rispettivamente contro Cus Palermo e Team Network Albatro Siracusa con fischio di inizio fissato alle ore 16.00. era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime edizioni Grazie. 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 Grazie.